Benvenuti a Pert in Western Australia, città magnifica, con luoghi bellissimi e tramonti straordinari. Ecco un po' la nostra storia coronavirus. Tanti divieti per assicurare la nostra salvezza. Chiusure di tanti posti pubblici e social distancing di almeno un metro e cinquanta. La situazione è seria, però se tutti ascoltiamo le regole possiamo insieme battere questo virus. Preghiamo a Dio che la situazione migliori e tutti riusciamo a sopravvivere.